Un libro frutto di un laboratorio di scrittura creativa rivolta ai detenuti ospedalizzati dal padiglione San Paolo all'interno del carcere di Poggio Reale, liberi di raccontare oltre le sbarre il libro della pastorale carceraria nel quale Paola Romano raccoglie storie e riflessioni di chi, pur essendo privato della libertà e non solo, non ha perso la capacità di riflettere sulla vita. È stato un interscambio di emozioni, di racconti, di storie che non volevo tenere per me. Mi ha fatto fatica renderle pubbliche, però era giusto così. Ed ecco perché ogni volta che mi propongono di presentarlo in qualsiasi luogo, come stasera in una trattoria, dico sì, porto i miei ragazzi, anche se loro sono ancora tra le sbarre, oltre le sbarre a mangiare con me in questa trattoria. Ho incontrato comunque una grande realtà che è quella là della pastorale carceraria, dove ho fatto un percorso e continuo a farlo, che comunque ha dato una svolta completamente alla mia vita. Grazie veramente a tutte le persone che credono nel cambiamento. Il libro è stato presentato presso l'antica trattoria da Alfredo in via Traccia Poggio Reale nel corso di un incontro conviviale. Ogni coppia partecipante è stata omaggiata del libro. La trattoria devolverà i soldi dell'acquisto del libro in beneficenza all'Associazione Liberi di Volare a sostegno dei carcerati e delle loro famiglie.